Signore e signori, buonasera, ringrazio Morco e Emiliana per aver raccolto il mio figlio come un proprio figlio nella loro casa e nella loro famiglia. Sono molto commosso oggi, come padre, perché sono di Giuseppe e Loredana, che hanno iniziato con noi portando i bambini insieme. Oggi Giuseppe e Loredana hanno formato una nuova famiglia. Nel nostro mondo, tanto tanto di lavoro, di impegno e spesso anche di sacrifici, la famiglia rappresenta la base della nostra forza. Nell'affetto e nella collaborazione familiare si trova il coraggio e la fermezza di affrontare e di superare la difficoltà della vita, anche di tutti i giorni. La Giuseppe e Loredana fanno oggi gli auguri più cari di mamma e papà, di sapere tenere vivi negli anni amore, passione, entusiasmo, amicizia e complicità, fedeltà e rispetto che non devono mai mangiare. E quando c'è delle difficoltà, guardatevi negli occhi e dite, noi ci amiamo e andiamo a mandi, ce la facciamo e sin caso mai non ce la fate. Noi ci siamo sempre per voi. Io, Rocco, Loredana, Francesco. Per noi siete sempre i nostri figli. Noi vi amiamo per 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 tutti i nostri figli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.